Amirco Valdifiori, impressioni di questi primi giorni di ritiro? Impressioni positive, siamo ripartiti con entusiasmo, lavorando, stiamo facendo fatica come è giusto che sia, però il gruppo è rimasto quello dell'anno scorso, i nuovi arrivati si stanno integrando bene, continuiamo così a lavorare, siamo solo agli inizi, pensiamo a mettere benzina dentro le gambe, e poi dopo, ti ripeto, sul discorso tattico, te così, dopo arriveranno più avanti gli amichevoli, comunque per il momento le prime impressioni sono positive. Con te è impossibile non parlare di mercato, ci sono state tante voci, se ne sono lette e dette tante, però Amirco Valdifiori per il momento è in Poli. Sì, io sono qua, ti ripeto, ne ho lette e ne ho sentite tante anch'io, se dovesse arrivare qualcosa di concreto sicuramente la società mi metterà al corrente di tutto, si valuterà l'offerta che potrebbe arrivare, adesso per il momento di concreto-concreto non c'è nulla, quindi adesso io penso a lavorare bene, penso a mettermi in forma e soprattutto penso che sono un giocatore dell'Empoli. Quindi con il Pescara possiamo dire acqua passata? Ma guarda, ti ripeto, io col Pescara ne ho lette, anzi quando ero a casa, adesso io non ho pensato tanto al mercato, ho pensato a staccampo la spina, ma a volte mi chiamava anche la gente come sembrava fosse già fatta a Pescara leggendo i giornali, ti ripeto, se mi viene proposto qualcosa vedrò quello che mi viene proposto, però ti ripeto, per il momento sono state solo voci, quindi ti ripeto, Pescara non è né passato né presente, non c'è mai stato nulla di solo voci, solo scritte sul giornale, poi dopo ti ripeto, io ho pensato a staccare la spina e adesso penso a allenarmi, per il resto ho il procuratore e ci penserà lui.